Coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario a causa dell'emergenza Covid-19 non possono assolutamente uscire di casa, neppure per recarsi alle urne in occasione delle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre. Tuttavia, la normativa nazionale stabilisce che hanno tempo fino alla mezzanotte di martedì 15 settembre per chiedere di votare a domicilio. Per inoltrare la domanda, la procedura è interamente online e si divide in due parti. Prima di tutto, bisogna chiedere alle ASL un certificato medico che attesti la condizione di isolamento emesso non prima del 6 settembre. Per ottenerlo, chi abita nella città metropolitana fiorentina, nelle province di Prato e Pistoia e nei comuni di San Miniato, Montopoli-Valdarno, Santa Croce-Sull'Arno e Castelfranco di sotto, deve seguire le istruzioni riportate sulla home page del sito www.uslcentro.toscana.it. Gli elettori delle province di Siena, Arezzo e Grosseto possono riempire un modulo direttamente dalla pagina www.uslsudest.toscana.it slash richiesta certificato covid per elezioni. Gli elettori delle province di Massacarrara, Lucca, Pisa e Livorno devono invece utilizzare la pagina www.uslnordovest.toscana.it slash comefareper slash certificato elettorale 2020. Il tutto allegando una copia di un documento di identità. Una volta ottenuto il certificato, occorrerà inviarlo entro la mezzanotte del 15 settembre al sindaco del comune di competenza. Sui siti web delle amministrazioni locali si trovano tutte le informazioni necessarie. Le operazioni di raccolta del voto a domicilio saranno effettuate dai componenti di seggi speciali che faranno capo a quegli ospedalieri.